Ciao amici! Io sono Miriam e io sono Emanuele. Abbiamo appena finito di studiare e ora ci leggiamo il nostro B preferito. Io vi leggo la famiglia Amici. Pinco e Pallina dicono a Pinocchio. Pinocchio! Amici, possiamo farti una domanda? Ma certo! Come mai è il naso così lungo? Ma come? Non lo sapete? È perché dico le bugie. Aiuto! Allora se diciamo bugie potrebbe succedere anche a noi. No di certo, ma vi capirebbe di peggio. I vostri amici non si fiderebbero più di voi. Sarebbe una bruttissima cosa. Altro che un naso lungo. Sai che ho scoperto da cosa deriva la corona hamburger? Guarda, adesso lo cerco. Deriva dalla città di Hamburgo, cioè anche il porto più importante della Germania, da cui i primi marinai tedeschi, che partirono da qui per New York tantissimi anni fa, portarono con sé alcune delle ricette tedesche, tra cui l'hamburger steak, cioè la bistecca preparata come si faceva ad Hamburgo. Era l'hamburger, che era ormai la famosa in tutto il mondo. Ciao a tutti! Alla prossima!